nella prima serata di domenica 8 ottobre a trionfare è stata la seconda stagione della fiction cuori rai 1 che registra il 18 per cento di share secondo posto per il ritorno di report rai 3 che debutta con l'11,4 per cento e oltre 2 milioni di spettatori sintonizzati terzo posto per caduta libera i migliori canale 5 che non va oltre l'11 per cento di share tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 8 ottobre 2023 rai 1 cuori ha appassionato 2 milioni e 876 mila spettatori con il 18 per cento di share canale 5 caduta libera i migliori è stato visto da un milione e 521 mila spettatori 11 per cento rai 2 tg2 post speciale è stato seguito da 566 mila spettatori 3,1 per cento italia 1 fbi most wanted ha appassionato un milione e 4 mila spettatori 6,5 per cento rai 3 report ha convinto due milioni e 61 mila persone 11,4 per cento rete 4 dritto e rovescio è stato seguito da 709 mila spettatori 5,5 per cento la 7 in onda prima serata ha totalizzato 449 mila spettatori 2,7 per cento